Lopini, Valdesiori, Marteltroff non ci arriva a croce, c'è Macchiarone però dalla parte opposta Colpo di tacco, di Macchiarone, poi Mario Lui, contro Salviato, Mario Lui si libera, Mario Lui, da mano, gol, 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 gol Gol, 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 gol di Ciccio, il 2 a 0 dell'Empoli, il 2 a 0 dell'Empoli e l'Empoli vuole in Serie A, l'Empoli vuole in Serie A, l'Empoli vuole in Serie A Il gol di Ciccio, 2 a 0 dell'Empoli, 2 a 0, su Pescara, Ciccio da mano, 2 a 0 dell'Empoli Meraviglioso, meraviglioso, 2 a 0 dell'Empoli, manca un quarto d'ora alla fine Cari archiviata l'Empoli ma in Serie A Salviato Selassie